E allora sentiamo dalla voce del Presidente Ceriscioli il parere sulle misure adottate dentro e fuori il cratere, il ruolo dei comuni nella ricostruzione, gli stanziamenti per il turismo. L'intervista è di Simona Carbonari. Il decreto fissa i capisaldi degli interventi, 30 i comuni marchigiani su 60. Per queste aree quali sono gli aiuti, le agevolazioni previste? Per queste aree in particolare c'è il 100% di risarcimento della seconda casa isolata, che è un fatto unico, il primo terremoto in cui viene risarcito. Più tutta una serie di misure che riguardano tutti i comuni terremotati, quindi tutti quelli che hanno avuto danni, il 100% della prima casa, il 100% delle attività economiche che hanno subito danni diretti dal sisma. Più una serie di misure che ci permettono di rafforzare il personale per gestire la grande macchina che si dovrà occupare di questo, complessivamente per il terremoto 250 unità aggiuntive che lavoreranno su queste misure. Vogliamo specificare che 120 sono in totale i comuni colpiti, danneggiati. Per queste aree fuori dal cratere, che cosa è previsto? Sì, è quasi le stesse misure all'interno del cratere, c'è la particolarità che le seconde case isolate hanno un contributo del 50%, ma ricordiamoci che nel precedente terremoto Umbria-Marche le seconde case non avevano contributo. Quindi la misura è forte sia dentro l'area del cratere ma anche all'infuori. Nella ricostruzione quale sarà il ruolo dei comuni? Un ruolo importante, questa volta non vissuto singolarmente, ma tutti insieme in un ufficio speciale che metterà regioni, province e comuni a condividere tutto il percorso della ricostruzione. Quindi i comuni chiamati a vivere questa dimensione di protagonismo insieme agli altri, che sono un fattore interessante anche come propria cultura e mentalità da costruire nella nostra regione e nel nostro territorio. Lei ha parlato di misura forte, un'altra misura forte riguarda il turismo. Sì, per il turismo sono previsti 2 milioni per far promozione nelle nostre aree interne. È vero che parlando di una zona quella ne uscirà rafforzata, ma il messaggio per le marche è più ampio. Sono tante le realtà che vivono di un'economia fragile che attraverso il turismo può avere un grandissimo contributo. E 2 milioni spesi di significa raccontare alle marche la loro bellezza, la loro forza. Quindi un grande messaggio a favore di tutte quelle comunità che abitano nelle nostre aree interne.